Le relazioni tra cittadini, pubblica amministrazione, imprese e banche stanno evolvendo. E la visione dell'ingegner Ragosa, ripresa dall'ingegner Cucuruto, della rete delle reti e quindi della necessità per il Paese di attivare una community dell'Italia per l'innovazione e la crescita sostenibile e da tre anni al centro della strategia evolutiva delle soluzioni TAS che non a caso diventano offerta per la banca, per la pubblica amministrazione e per l'impresa. TAS ha sempre sviluppato soluzioni per coprire le esigenze dei nostri clienti, tendenzialmente gli istituti di credito ma negli ultimi anni, grazie anche alle iniziative del CBI, TAS ha visto cambiare la propria clientela con le pubbliche amministrazioni, le imprese ed i cittadini, favorendo dei modelli di business nuovi e che agevolano la sinergia tra i nostri clienti. L'obiettivo è essere cercato di raggiungere con la suite Financial Value Chain e in particolare con le soluzioni di e-billing, riscossione e fatturazione elettronica e realizzare delle soluzioni integrate che facilitano la collaborazione dei vari attori in gioco. L'approccio cooperativo avvicina chi usufrisce il servizio e chi offre il servizio dà valore all'integrazione dei processi B2B e B2G focalizzando l'attenzione sulla rapidità e la semplicità dei servizi quando, come e dove vuoi, che sono la vera chiave di successo. In quest'ottica particolarmente significativa è l'esperienza avviata da anni con Regione Toscana con l'attivazione e in produzione della piattaforma Paytas per il pagamento e la riconciliazione di tributi e servizi. La piattaforma Paytas offre una posizione debitoria e creditoria unica al cittadino, alla pubblica amministrazione e alle imprese offrendo anche servizi a valore aggiunto come lo scadenzario. Paytas è aderente agli standard CAD di cooperazione applicativa tra le pubbliche amministrazioni si basa sulla rete CBI e è complementare al CBI, coprendo già oggi con i suoi servizi gli spazi competitivi che il CBI ha lasciato alle banche nell'offerta di e-billing. Noi crediamo nel valore che si sviluppa dalla semplificazione e l'integrazione dei processi tra cliente, fornitore, pubblica amministrazione e imprese. La nostra piattaforma di fatturazione affronta questo tema in senso ampio diventando anello di congiunzione dall'ordine al pagamento e dando forte enfasi allo standard CB, al nuovo standard della pubblica amministrazione SOGEI già presente sulla piattaforma e al nuovo standard europeo PEPOL che stiamo implementando. L'approccio cooperativo che si sta sviluppando impone nuovi modelli di offerta del servizio e in quest'ottica TAS ha dedicato una business unit specifica per accompagnare i nostri clienti allo scopo in piena coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale.